una partita al cardiopalma ci voleva una una partita clamorosa secondo me una partita che commentava microfoni spenti era difficile da vincere contro me l'hai fatto notare tu poco prima dell'inizio di intervista con una squadra che fa il 52 per cento da tre una squadra che commentavamo sempre a microfoni spenti davvero davvero forte darà del filo da torcere a tante tante squadre anche con il nuovo innesto che pare pare sia quasi vedremo comunque una partita che ci voleva per fare morale la quarta sinfonia e una una virtus che adesso va a valmontone con con tanto morale ma sì quarta sinfonia sono d'accordo con te perché questa è veramente stata una sinfonia e sottolineo questo dato nella palacanestro vincere contro un avversario che tira col 52 per cento da tre e che ti porta anche a meno 19 di scarto quando stava per tagliarti le gambe questa è una squadra che ha degli attributi notevole inutile negarlo inutile a girarci intorno questa è una squadra che è l'orgoglio è il mio orgoglio è l'orgoglio di tutta la dirigenza di tutta la dirigenza virtus è una squadra che ha delle possibilità inesplorate e attualmente inesplorabili perché io non riesco a trovare dei limiti a questa squadra questa squadra tira fuori dal cilindro ogni volta delle cose nuove degli attributi nuovi siamo molto contenti il processo di crescita continua perché ci serviva come il pane una vittoria di questo tipo non so se tu sei d'accordo e l'abbiamo trovata contro una squadra molto ben allenata che sta molto bene in campo che gioca a memoria e che con villani ha trovato veramente la quadratura del cerchio perché permette molte soluzioni tattiche che all'andata non avevano che oggettivamente adesso hanno e se mettono quell'altra ciliegina sulla torta questi diventano veramente questi diventano veramente tosti da scardinare oltre alle statistiche diciamo prettamente individuali quindi un riconfermatissimo Giampaoli un grandissimo Duilio un grandissimo Stefano Potì un grandissimo Valesin Bagnoli nemmeno a dirlo da un punto di vista statistico ci troviamo 38 punti provenienti dalla panchina che secondo me sono il diciamo l'elemento che ci ha fatto fare il salto di qualità per vincere questa partita un altro dato è i 35 minuti in vantaggio di Forlì quindi una squadra sotto tutta la partita che non perde mai la testa che vuole sempre recuperare il solco che provava a scavare Forlì e innesimo dato 9 a 0 di parziale sul finire la partita fino ad arrivare l'81-82 e poi tripla finale di Birindel una squadra che non ha perso mai la testa e questi dati lo evidenziano sì lo evidenziano anche quando a 2.45 dalla fine eravamo 10 punti sotto eravamo tornati 10 punti sotto è una squadra che non si è persa continuata a difendere scesa giù di cambe noi stavamo 82 a 72 a 2.45 dalla fine cioè questa è una squadra che veramente ha dell'incredibile ha delle doti ha tirato fuori dal cilindro e poi ti sottolineo quel tuffo clamoroso di un 2 metri e 0 8 di Simone Bagnoli che la dice tutta su quanto ci tengono i ragazzi su quanto ci tengono i ragazzi quanto orgoglio abbiano nel vestire questa maglia perché quel tuffo lì invito tutti quanti a rivederlo è un tuffo veramente straordinario di una di un'intensità di una voglia un pivot che si lancia nell'angolo lontano del del campo per prendere quel pallone con il suo peso tutto il suo peso con la fine della partita rischio di farsi male alla fine della partita è un esempio è un gladiatore lui ma tutti 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 sono molto contento anche per Stefano Potì per Andrea Giampaoli che si conferma ma per tutti Renato e io voglio voglio sottolineare anche come ho fatto con il coach secondo me la chiave della partita è stata è stata la prova di Biaggio che con quattro falli ha difeso fino a quel momento un arrestabile Rombaldoni ci si è messo con la testa con l'intensità con la voglia e nonostante appunto deficitario di questi quattro falli Rombaldoni aveva iniziato il quarto quarto con 20 punti ha chiuso a 24 quindi molto molto limitato io ti invito a non svelare troppo i segreti i nostri segreti agli avversari ma Biaggio Sergio è uno dei segreti di questa squadra l'ho detto anche l'altra volta dopo la vittoria di Teramo lo confermo perciò siamo sereni siamo sereni andiamo a Valmontone ce la giochiamo è una partita di regular season poi poi vediamo alla fine facciamo i conti intanto sono molto il primo bilancio nettamente positivo ho visto tanto entusiasmo tra i tifosi e questo mi fa piacere anche la fotografia finale è stata molto richiesta dai tifosi è stata molto 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 significativa la gente si sta identificando con questo nuovo spirito combattivo da lupi famelici e quindi siamo contenti uno scetticismo generale attorno a questa squadra che adesso si è notevolmente ridimensionato ma sì si è notevolmente ridimensionato noi però siamo tranquilli piedi per terra continuiamo a lavorare d'altra parte che ne so credo credo che da queste parti queste partite così pochi le abbiano viste forse nessuno è un basket che conta è un basket di altissimo livello qui ha giocato stasera uno dei medagliati di Atene avete visto che partita che ha fatto sto parlando di Rombaldoni io giù il cappello un giocatore veramente straordinario uno che ha vinto assieme a Marsili che è nelle nostre file il campionato a Forlì per cui voglio dire qui c'è gente che gioca la pallacanestro ad altissimi livelli il basket che conta è tornato a Cassino e io voglio ringraziare tutti quelli che erano qui presenti e un plauso lo voglio fare a due persone se tu mi consenti vorrei dedicare questa vittoria anzi a tre persone il primo pensiero va all'amico presidente del Cassino Calcio Nicandro Rossi lo abbraccio con tutto il cuore e soprattutto sono molto orgoglioso di essergli amico questo è il primo passaggio il secondo passaggio voglio ringraziare il sindaco della città di Cassino per tutto quello che lui ha fatto durante la settimana lui sa a che cosa mi riferisco non voglio dire altro lo abbraccio e lo ringrazio grazie Carlo di vero cuore il terzo ad un amico che non c'è più Antonio che ci ha lasciato ieri e che era un grande tifoso della Virtus e veramente con il cuore pieno di dolore, gonfio di dolore gli rivolgo le sentite condoglianze di tutta la Virtus e di tutti quanti noi che amiamo la Virtus e soprattutto per il suo grande attaccamento ai valori davvero umani che ci ha saputo trasmettere nella sua vita e nella sua esistenza grazie Antonio, sto parlando di Antonio Ferritto un grande amico, un grande tifoso della Virtus ultima domanda anche se è difficile dopo questa ultima dedica commovente che hai fatto inciderà l'assenza di Guarino secondo te sulla prossima partita? ma chiaramente Guarino è un giocatore di un'altra categoria è fortissimo, è uno dei più grandi giocatori che abbiano calcato i palcoscenici della provincia di Frosinone però dall'altra parte c'è un vecchio amico un amico di vecchie battaglie il capitano della Virtus Cassino dello scorso anno Manuel Carrizzo che sicuramente saprà far valere le sue doti e saprà far vincere Valmontone